Una settimana dopo la grande conclusione del mondiale di Formula 1 è tempo di concludere la stagione dei racing podcast in generale con l'ultimo format del pagellone promosse e bocciate di quest'anno dopo aver parlato della superbike e della MotoGP concludiamo con la Formula 1 analizzando ogni singolo pilota che ha preso parte alla stagione 2021 la stagione che ha visto trionfare Max Verstappen nel controverso finale di Abu Dhabi con un enorme zampino della direzione gara ai danni di un Lewis Hamilton che non riesce a vincere l'ottavo titolo del mondo l'olandese invece si aggiudica il primo titolo della carriera con un vantaggio esiguo rispetto a Lewis Hamilton un mondiale di Formula 1 che è concluso ad Abu Dhabi settimana scorsa che appunto ha reso giustizia a un mondiale tutto sommato molto interessante uno dei più belli probabilmente degli ultimi anni seppur connessionato da qualche episodio qua e là da parte di fattori esterni e per fattori esterni intendo la direzione gara tanto è vero che la direzione gara avrà un voto molto particolare al termine del pagione promosse e bocciati ma ovviamente di quello ne parleremo a fine video come tutti gli altri format analizzeremo ogni singolo pilota che ha partecipato a questa stagione 2021 di Formula 1 in attesa appunto poi di congedarci con il Racing Podcast per riprendere a marzo dell'anno prossimo quando si partirà con il nuovo Gran Premio del Bahrain e dunque come al solito partiamo dalla fine Max Verstappen vince il titolo del mondo 2021 di Formula 1 e per questo va necessariamente promosso al termine di questa stagione un Max Verstappen che ha fatto quel salto di qualità che comunque ci si aspettava un salto di qualità che è stato anche frutto della Red Bull che all'ultimo anno del motore Honda è effettivamente riuscita a creare una macchina competitiva fin dal giorno 1 ed era molto questa la chiave di volta della stagione di Max Verstappen perché evidentemente se la Red Bull riusciva a fare una macchina competitiva a Verstappen ci sarebbero state delle chance secondo me di giocarsi il titolo del mondo cosa che effettivamente è successa ed è effettivamente culminata nel grande finale evidentemente di Abu Dhabi Max Verstappen alla fine porta a casa 10 vittorie su 22 gare e di conseguenza è un titolo del mondo legittimo e meritato per quanto comunque controverso va detto che in ogni caso come ripeto la direzione gara ha avuto un evidente fattore e un'evidente condizione in generale in tutto il mondiale ha vantaggio e svantaggio di entrambi i contender del titolo del mondo ma in ogni caso è giusto celebrare il vincitore Max Verstappen che peraltro andrà a difendere il titolo anche con il numero 1 sulla livrea cosa che è concessa al campione del mondo in carica per l'anno successivo in un mondiale che sarà peraltro di 23 gran premi è stato il mondiale di Verstappen che comunque va detto tolto il fatto di Abu Dhabi ha giocato in difesa perché ha portato allo stremo una macchina che non era per niente la macchina migliore perché dal Brasile in poi evidentemente era la Mercedes la macchina da battere in ogni caso c'è stato questo arrivo incredibile a pari punti peraltro molto controverso con ricorsi post gara da parte di Mercedes con degli appelli da parte di Red Bull alla fine è tutto stato concluso diciamo in un nulla di fatto e dunque si andrà nel 2022 con appunto Verstappen campione in pista e non con un altro campione in tribunale come sperava la Mercedes una Mercedes che comunque di fatto il mondiale lo butta via nonostante abbia avuto un Hamilton in stato di grazia soprattutto nell'ultimo terzo di stagione e anche Hamilton dal mio punto di vista va promosso perché comunque ha dato vita a un finale di mondiale inaspettato per certi punti di vista perché dopo il Messico evidentemente Max Verstappen sembrava molto più indirizzato a vincere il titolo del mondo a discapito di Hamilton cosa che invece non si è verificata perché appunto come dicevamo prima dal Brasile in poi la Mercedes ha fatto delle modifiche sostanziali al motore cambiando con una power unit nuova e si è vista poi come la Mercedes tornasse a essere soltanto con Hamilton quantomeno la macchina da battere Hamilton ha infilato la serie di vittorie consecutive tra Brasile e Arabia Saudita ed è evidentemente poi riuscito ad arrivare a giocarsi il titolo avrebbe meritato di vincere la gara di Abu Dhabi? certamente sì perché ha dominato la gara ha condotto 53 giri su 58 e probabilmente avrebbe meritato il titolo del mondo poi è ovvio che chi vince di più ha sempre ragione posso capire comunque la frustrazione di Hamilton di aver perso un titolo del mondo in questo modo dopo aver comunque fatto una rimonta clamorosa perché comunque i punti di distacco se non sbaglio rispetto a Max Verstappen erano praticamente sulla trentina poi dopo sono stati recuperati pian piano e alla fine si è arrivato all'arrivo a pari punti se non sbaglio in realtà erano 19 e Hamilton invece un tratto della stagione aveva 30 punti di vantaggio comunque 19 punti di vantaggio in un mondiale dove di fatto i due contender arrivano spesso primo e secondo era evidentemente un vantaggio che poteva essere tanto in termini di valore anziché magari in termini numerico come magari può succedere in altri campionati Hamilton comunque l'anno prossimo sarà ancora su Mercedes avrà un compagno di squadra abbastanza impegnativo che sarà George Russell in ogni caso mi aspetto di vedere un Hamilton molto competitivo anche l'anno prossimo nonostante il campo di regolamento perché Mercedes e Red Bull e in particolare Verstappen e Hamilton partono da una base di partenza piuttosto solida a differenza del compagno di squadra di Lewis Hamilton quantomeno per questa stagione ovvero Valtteri Bottas che invece a differenza del pilota inglese va bocciato perché è vero ha vinto una gara in Turchia dove sembrava veramente un pilota importante ha fatto i podi che sono stati fondamentali per quanto riguarda il titolo team della Mercedes va detto però che Valtteri Bottas doveva fare il lavoro che ha fatto anche negli ultimi anni per provare a giocarsi il mondiale anche per Hamilton con lo schieramento a due punte cosa che invece ha fatto egregiamente Red Bull con Sergio Perez Valtteri Bottas nei momenti decisivi purtroppo è sempre stato chiamato fuori vedi per esempio la gara in colore di Abu Dhabi vedi per esempio la gara in colore del Messico vedi per esempio Stati Uniti vedi per esempio quando si è ritirato in Ungheria peraltro cercando anche di far fuori Max Verstappen costringendola a una gara di rimonta con Hamilton che invece lì ha portato a casa punti importanti insomma era un pilota che doveva fare lo spoiler di fatto della Red Bull e non è riuscito a farlo Valtteri Bottas peraltro concluderà la carriera in Mercedes l'anno prossimo lo vedremo in Alfa Romeo accanto al cinese Guanyo Jo chi invece è stato confermato anche per l'anno prossimo e meritatamente direi è Sergio Perez che di fatto è uno degli artefici del mondiale di Max Verstappen non per quanto riguarda l'esito finale ma ha dato un enorme contributo a dare delle chance a Verstappen in quella gara di Abu Dhabi con la difesa leggendaria su Hamilton il fatto di avere rallentato il pilota inglese con la difesa appunto dello stesso Perez ha permesso a Verstappen di rientrare di ben 5 secondi che sono veramente un'eternità Perez poi ha portato la Red Bull a vincere con due vetture diverse cosa che non succedeva da tempo in memore Perez ha vinto la gara dell'Azerbaijan e ha effettivamente meritato poi dopo a suon di podi a suon di top 5 la riconferma per l'anno prossimo Sergio Perez è evidentemente in questo momento il secondo miglior secondo pilota probabilmente della stagione del Circus della Formula 1 ed è giusto che venga confermato l'anno prossimo dalla scuderia austriaca Red Bull ed evidentemente anche l'anno prossimo ci sarà una scuderia a due punte se Verstappen dovrà difendere il titolo del mondo e effettivamente abbiamo visto come effettivamente questo secondo pilota avere un secondo pilota importante ha potuto contribuire e non poco a un gioco di squadra come faceva Mercedes ai tempi quando Hamilton e Bottas erano uno schieramento a due punte con Bottas molto più competitivo e l'avversario della Mercedes in quel caso era Vettel che appunto non poteva fare molto considerato che Raikkonen era attardato rispetto ai Big 3 dell'epoca qui si può fare lo stesso discorso con l'unica differenza che Raikkonen è messo in tutto un altro finlandese ovvero Valtteri Bottas ma Perez ha fatto una grandiosa stagione per un pilota che comunque è un veterano perché parliamo di un pilota che ha più di 30 anni che ha vinto soltanto due gare in carriera in Formula 1 di cui appunto una l'anno scorso e una quest'anno ma comunque è un ottimo secondo pilota da confermare e dunque promosso a pieni voti Sergio Perez così come è stato promosso secondo me anche Carlos Sainz che ha fatto una stagione veramente oltre le aspettative d'accordo qui adesso iniziamo a parlare del campionato degli altri del campionato degli umani parliamo della Ferrari in particolare che puntava a essere la terza scuderia per quanto riguarda il Mondiale Costruttori e lo ha fatto non col pilota di punta però perché il primo di due piloti della Ferrari è Carlos Sainz che era arrivato un po' nella nomea di seconda guida un po' come mentore o quantomeno una guida che doveva imparare a fare le cose come il predestinato o comunque non al livello del predestinato Charles Leclerc e invece Carlos Sainz con una stagione ordinata e di fatto molto compita è riuscito a portare a casa punti fondamentali al team e essere di fatto il primo degli umani anche nella classifica generale pound for pound Carlos Sainz ha fatto la stagione migliore probabilmente del ciclo di Formula 1 dico una cosa esagerata dico pound for pound perché di certo la Ferrari non è la macchina migliore e non ci andiamo nemmeno vicini però per i mezzi che ha arrivare comunque a 25 punti circa da Sergio Perez evidentemente è un gran bel viatico per il debutto di Carlos Sainz in rosso quattro podi in stagione per Carlos Sainz l'ultimo peraltro ad Abu Dhabi ok è condensato anche dal ritiro di Sergio Perez ma comunque la gara di Sainz era sontuosa fin dal giro numero 1 della gara degli Emirati Arabi in ogni caso veramente grande prestazione del pilota spagnolo inaspettato al mio modo di vedere però comunque è un pilota che sicuramente sa il fatto suo e abbiamo visto come anche in questo caso avere due piloti competitivi può essere importante per la Ferrari a differenza degli anni passati dove di fatto si era soltanto Charles Leclerc Lando Norris di fatto anche lui può essere promosso ma non con un voto altissimo dove si dare una scala di voti Carlos Sainz si merita un 8 pieno Norris secondo me si merita un 6 e mezzo d'accordo che sono tifoso della McLaren però Lando Norris l'anno scorso aveva dimostrato di avere degli sprazi di talento incredibili e degli alti mostruosi qui paga va detto anche il fatto che la McLaren abbia avuto degli alti e bassi clamorosi perché su alcune piste la McLaren era la macchina da battere addirittura vedi per esempio Monza in altre piste vedi per esempio Imola o Styria cose del genere la formazione inglese aveva di fatto delle credenziali da podio e Lando Norris infatti si è sempre trovato bene per esempio in Austria poi dopo dalla seconda parte di stagione in giù evidentemente la formazione inglese è riuscita a buttare nel cesso il terzo posto del mondiale costruttore a discapito comunque di una Ferrari che comunque ha dimostrato una crescita incredibile soprattutto con Carlos Sainz perché poi dopo la Ferrari e la McLaren facevano molto la gara dei poveri e degli altri nel senso che è vero c'erano le due Mercedes e le due Red Bull sempre nei primi quattro posti e poi se ne si giocava per se andava bene la quinta posizione abbiamo visto tantissime gare in stagione della McLaren e della Ferrari con posizioni tra la settima ottava la decima anche fuori dai punti ogni tanto quindi insomma è una stagione da alti e bassi comunque Norris batte sonoramente Daniel Ricciardo in ogni caso è una stagione diciamo di transizione un po' per la McLaren che comunque è tornata alla vittoria ma ne riparleremo e vedremo se il regolamento tecnico dell'anno prossimo potrà essere importante per la scuderia di walking per quanto riguarda invece il secondo pilota della Ferrari ovvero Charles Leclerc c'è secondo me da fare una bocciatura ed è la prima evidentemente dopo quella di Valtteri Bottas in questa revisione del pagellone promossi e bocciati perché Leclerc dicevo prima doveva essere il primo pilota era stato disegnato come primo pilota della Ferrari dopo che Sebastian Vettel è andato via veramente anche in malo modo mi verrebbe da dire dalla scuderia di Maranello Leclerc con Carlos Sainz doveva essere sicuramente il go-to guy della scuderia e invece si è ritrovato a subirle anche dal suo compagno di squadra vero Leclerc ha fatto un podio in quella controversa gara di Silverstone dove ci fu il grande incidente Verstappen Hamilton però è stato un lampo nel buio e basta un fuoco di paglia mi verrebbe da dire poi Leclerc ha collezionato risultati interessanti fino a Stati Uniti e Messico e poi ha concluso in Calando non è una stagione però da Leclerc perché un pilota del suo talento dovrebbe battere facilmente Carlos Sainz e anche Lando Norris che di fatto è un pilota che può essere paragonato secondo me a Charles Leclerc dovrà sicuramente riboccarsi le mani che il Monegasco sperando anche di avere una macchina competitiva perché appunto come sappiamo la Ferrari era una macchina competitiva molto altalenante e l'abbiamo visto anche nelle ultime gare che invece era tutto fuori competitiva addirittura l'Alfa Taro nell'ultima gara l'abbattuta sonoramente senza se e senza ma per quanto riguarda invece l'ottava posizione abbiamo Daniel Ricciardo che paradossalmente è un pilota che si meriterebbe un senza giudizio perché comunque per tutto il resto della stagione ha collezionato prestazioni in colore e in particolare con un Lando Norris che l'ha battuto abbastanza sonoramente certo c'è quell'exploit della vittoria di Monza che ha fatto tornare l'associazione McLaren dopo otto anni ma è stato di fatto un exploit perché dopo la gara di Sochi e la gara di Stati Uniti Ricciardo è tornato molto nell'anonimato c'è anche lì il fuoco di paglia della gara di Jedda ma è stata una gara come abbiamo detto molto particolare per il resto Ricciardo nel primo anno in McLaren poteva fare molto di più al netto che comunque ci sta che l'australiano venga battuto da Norris in quanto Norris è il go to guy della McLaren però comunque una McLaren che su alcune piste era competitiva lui era soprattutto con Norris e non con Ricciardo che ha vinto la gara di Monza per la mia gioia e anche la gioia dei suoi tifosi che sono tanti anche in Italia visto le origini del pilota australiano in ogni caso è un giudizio secondo me da rimandare al prossimo anno per il pilota australiano assieme a Pierre Gasly per un Alfa Tauri che ha chiuso in crescendo la stagione con un quarto e un quinto posto ad Abu Dhabi un Gasly che anche lui è senza giudizio mi verrebbe da dire perché comunque ha il grande exploit del podio dell'Azerbaijan che però è frutto anche del doppio ritiro Hamilton Verstappen e poi non ha più riconfermato i livelli che l'abbiamo visto vedere negli anni scorsi o meglio lo ha fatto ma non in maniera continuativa d'accordo che l'Alfa Tauri non era di fatto la prima macchina competitiva dopo le big 2 scuderie ovvero Red Bull e Mercedes però comunque Gasly si conferma un pilota in top 10 con un podio qualche top 5 e una macchina che anche quella era abbastanza altalenante in ogni caso è un pilota molto interessante Gasly e mi sarebbe piaciuto rivederlo in Red Bull una seconda volta già l'anno prossimo però ripeto con un Sergio Perez così evidentemente è abbastanza impossibile avere il secondo posto di Red Bull a meno che Perez non fallisca l'anno prossimo o addirittura si ritiri il pilota messicano ma questa è puramente una supposizione personale allora Gasly potrebbe tornare in quella scuderia che lo ha scaricato due anni fa ma era un Gasly oltremodo acerbo chi invece non è acerbo per niente è Fernando Alonso che rientra in Formula 1 dopo diversi anni di stop ha una macchina comunque che lo ha visto protagonista perché di fatto l'Alpin Renault è l'ex team Renault dove Alonso vinse gli ucciutiti del mondo della carriera torna e fa top 10 alla venerandetà di 42 anni segno che il talento non si perde e peraltro è un pilota che è rientrato da pari di stop e batte un suo compagno di squadra che comunque in Formula 1 c'è da tempo e che comunque non è uno dei più fermi in pista perché batte Esteban Ocon che comunque è riuscito a vincere una gara in Ungheria Alonso comunque va promosso senza se senza ma perché appunto queste caratteristiche che ho elencato fanno già in modo che la stagione sia leggendaria e il culmine è stato il podio del Qatar un podio che è stato salutato con grande interesse da tutti i tifosi e appassionati di Formula 1 anche evidentemente immagino gli ex ferraristi che lo hanno visto comunque dagli anni in rosso ripeto il talento non si perde e non si perderà mai il podio è stato qualcosa di meritato e solo per questo e per la top 10 raggiunta con una macchina che comunque si adottava ogni tanto per le prime 5 posizioni quando era più competitiva e poi nelle posizioni di metà classifica è veramente una stagione molto interessante per il piota spagnolo che batte appunto Esteban Ocon suo compagno di squadra che comunque ottiene la prima vittoria in Formula 1 in carriera anche a prima di Ungheria peraltro vittoria condizionata anche dalla grandiosa difesa di Alonso su Hamilton un Hamilton che avrebbe comunque potuto ambire qualcosa di più in quella gara ungherese certo Ocon tolto quello exploit è di fatto un pilota che ha sempre preso diciamo le bastonate da Alonso di fatto nella seconda metà di stagione quando in realtà evidentemente era all'inizio quantomeno anche un po' al contrario Esteban Ocon ha qualche exploave di per esempio le gare del Medio Oriente dove l'hanno visto quinto e quarto tra Qatar e Arabia Saudita anche lui ti direi è un pilota che andrebbe rimandato a giudizio nel senso che appunto se ha rimandato a giudizio Daniel Ricciardo che anche lui ha vinto una gara ma poi è stato molto altalenante anche Ocon non ha dimostrato quella continuità appunto frutto della vittoria di Ungheria va detto che ripeto l'Alpine nella McLaren quindi ci sta che ci siano questi exploit però comunque Ocon si merita evidentemente ancora di essere giudicato l'anno prossimo certo Alpine ha una situazione non propriamente felicissima perché il pilota che ha vinto la Formula 2 ovvero Oscar Piastri è un pilota dell'Alpine Junior Team ed è un pilota di talento anche superiore a questo Ocon e quindi è un pilota che potrà dar fastidio l'anno prossimo anche seppur in veste di test driver ma per avere un posto nel 2023 quindi Ocon dovrà stare attento l'anno prossimo per avere una stagione più competitiva di questo undicesimo posto che lascia veramente il tempo che trova Sebastian Vettel finisce dodicesimo in questa classifica di mondiale Formula 1 Sebastian Vettel che batte il suo compagno di squadra e ci mancherebbe altro perché Lance Stroll meriterebbe di essere battuto più o meno da chiunque sia presente in questo circus di Formula 1 è una stagione non propriamente felicissima per Sebastian Vettel che ok ha cambiato team è andato in Aston Martin dopo il disastro Ferrari dello scorso anno è una stagione che non è da promuovere secondo me per Sebastian Vettel ha detto che l'Aston Martin in generale è da bocciare tutta perché con gli investimenti che hanno fatto ci si aspettava una macchina più competitiva e sicuramente non basta il podio di Sebastian Vettel in Azerbaijan per salvare la stagione perché il podio di Azerbaijan è qualcosa di estemporaneo infatti abbiamo visto che il podio è stato Perez Vettel e Gasly che poi di fatto tranne Perez non hanno più replicato risultati di questo tipo l'Aston Martin ha sempre viaggiato after the music ed evidentemente anche i piazzamenti che vediamo per esempio il top 5 del Belgio sono piazzamenti oltre modi estemporanei ma della gara del Belgio ne parliamo evidentemente a fine video così come è da bocciare evidentemente Lance Stroll che è un pilota che onestamente è lì in Formula 1 semplicemente perché è il figlio del proprietario certo con l'Aston Martin lui ha avuto i miglioramenti più interessanti paradossalmente perché comunque in alcune gare ha battuto anche Sebastian Vettel poi è tornato evidentemente della mediocrità facendo anche errori molto gravi vedi per esempio la staccata folle in Ungheria dove taglia fuori pista per sbattere fuori le clerk però non è un pilota che ha ancora dimostrato di essere a pieno un pilota di Formula 1 nel mio modo di vedere ripeto Stroll rientra nella categoria secondo me dei piloti paganti che non dovrebbe avere diritto di strianza in questa Formula 1 perché comunque ripeto è lì perché è il figlio del proprietario ma ripeto in questa Formula 1 spesso contiene i soldi a discapito del talento e infatti molti piloti talentuosi anche delle categorie propedeutiche sono fuori a discapito dei vari Stroll dei vari Mazepin e dei vari Nicolas Saltific che comunque sono piloti paganti nonché peraltro figli di azionari delle scuderie dove corrono di conseguenza sappiamo che va così e abbiamo capito il motivo perché questi piloti sono in Formula 1 peraltro Stroll abbiamo capito che se fa podio lo fa o in Canada o in condizioni di bagnato estremo come è capitato anche in altre situazioni passate ma ripeto è un pilota che secondo me in Formula 1 non ci dovrebbe stare Yukitsunoda invece conclude la stagione di Formula 1 con un strepitoso quarto posto ad Abu Dhabi Tsunoda è il primo pilota nato nell'anno 2000 negli anni 2000 meglio a correre in Formula 1 un pilota che viene battuto da Gasly di cui comunque non può condividere il talento è un pilota che secondo me va rimandato a giudizio perché ripeto questa stagione abbiamo visto un Tsunoda che per alcuni tratti ha dimostrato del talento soprattutto nel difendere vedi per esempio la difesa incredibile che fece in Turchia su Hamilton in alcune gare ha dimostrato di valere comunque le posizioni che contano e abbiamo visto il sesto posto di Ungheria è una pista dove non si supera e anche questo è ancora più sorprendente il quarto posto di Abu Dhabi che comunque tolto quel gran finale appunto tra Verstappo e Hamilton ha oscurato il finale del giapponese non lo promuovo nello boccio appunto lo rimando a giudizio chi invece promuovo è Giorgio Russell perché con il carretto della Williams o se preferite la Carbonella porta dei punti in dote importanti lasciamo perdere la gara del Belgio ma comunque abbiamo delle gare interessanti a punti tra Ungheria e Russia e sono gare interessanti gare vere dove appunto si è visto il potenziale del pilota che l'anno prossimo sarà in Mercedes a fianco di Lewis Hamilton Russell ha dimostrato soprattutto di avere un buon passo e un buon tempo in qualifica in gare invece ovviamente fatica ma perché in questo caso il mezzo non glielo consente però Russell è un pilota che si dice da anni che arriverà e io sono convinto che con una macchina più competitiva Russell possa giocarsi il titolo del mondo addirittura perché ricordiamo che il pilota inglese è uno di quelli che ha vinto come Leclerc e Piastri Formula 3 e Formula 2 in modo consecutivo e ha già dimostrato sprazzi di cose interessanti già in questa stagione con una macchina nettamente inferiore e soprattutto in qualificazione logicamente vedremo l'anno prossimo con una macchina più competitiva soprattutto per una stagione intera visto che Russell ha già corso in Mercedes ma solo per una gara che cosa riuscirà a fare in Bahrain l'anno scorso stava quasi per vincere la competizione all'esordio in Mercedes vedremo se appunto ci saranno dei filotti di vittorie che è sempre seguito ovviamente glielo consentirà Kimi Raikkonen andrebbe promosso alla carriera per quanto ha fatto per la stagione fatta in Alfa Romeo andrebbe bocciato perché i risultati non sono degni dell'Alfa Romeo Sauber però appunto è giusto dare il tributo necessario a Kimi Raikkonen un pilota che si ritira dopo anni di Formula 1 quindi promosso sicuramente alla carriera per personaggio appunto per iconicità mi verrebbe da dire del pilota finlandese bocciato per vedere la macchina perché l'Alfa Romeo se giocava con la Haas per la macchina assolutamente peggiore del Circus però Raikkonen ha fatto sicuramente tanto per questa Formula 1 e di fatto se ne va un po' come era entrato è entrato in sordina oramai 21 anni fa perché la prima gara di Raikkonen se non sbaglio fu nel 2000 e se ne è uscito di fatto nel non dico in differenza generale però nella tranquillità più assoluta mentre Mercedes e Red Bull si scannavano in tribunale nell'aura della FIA per decidere che aveva vinto il campionato del mondo lui se ne è andato con la famiglia con la moglie e i figli verso di fatto la pensione così come lui ha scritto sul suo profilo Instagram una pensione comunque meritata per un pilota che ha fatto tanto per la Ferrari perché ricordiamo che Raikkonen è stato il primo e unico di fatto vincitore dopo l'era Schumacher del titolo del mondo con la rossa di Maranello Raikkonen vinse nel 2007 a discapito di quel Louis Hamilton che da rookie rischiava di vincere il mondiale e poi ha fatto il secondo difetto fino al 2018 per poi andare a concludere la cadera in Alfa Romeo dove comunque ha battuto sempre i suoi compagni di squadra in questo caso anche il nostro Antonio Giovinazzi ma comunque anche nel suo caso il talento di certo non si perde va detto che con l'Alfa Romeo è molto più difficile fare punti rispetto che con una Alpine o una macchina anche solo di media classifica diciassettesimo è Nicolas Latifi che comunque non fa una stagione così tanto malvagia perché tolto il nono posto del Belgio di cui ovviamente riparleremo c'è il settimo posto in Ungheria molto importante dove in realtà in generale la Williams ha fatto la miglior gara della stagione pound for pound e solo quello basterebbe per la promozione appunto di Latifi che comunque sta pian piano crescendo per quanto la Williams non sia appunto una macchina così competitiva Latifi è anche colui che di fatto il mondiale lo ha deciso con quella safety car e quell'incidente al 53esimo giro su 18 scatenando appunto la sua fornitura di Red Bull gratis a vita da parte di Christian Horner per aver fatto vincere il titolo del mondo alla Red Bull con quell'incidente in realtà l'ha fatto vincere anche la direzione gara con una gestione molto rivedibile della safety car ma comunque il caso sbelli di quella safety car è appunto l'incidente del canadese che ripeto non è un pilota secondo me che in Formula 1 ci potrebbe stare perché ripeto già non ha una macchina competitiva e in più secondo me non ha quel talento magari di altri piloti che abbiamo visto in questa Formula 1 anche in Formula 2 comunque la safety si faceva po' di vittorie ma comunque è un pilota secondo me di quella categoria ripeto anche lui è lì perché è un pilota pagante nonché figlio del proprietario di una parte della Williams di conseguenza anche l'anno prossimo lo rivedremo in ogni caso ripeto speriamo che un domani ci sia posto per altri piloti più talentuosi del canadese si ritira per il momento dalla Formula 1 invece Antonio Giovinazzi che viene battuto dallo stesso la safety va detto che i punti sono punti veri a differenza di quelli di la safety che ne ha qualcosa in più rispetto appunto per quella gaga del belgio giovinazzi è stato trattato malissimo dall'Alfa Romeo che di certo non è la macchina più competitiva dell'otto che probabilmente versa in collezioni economiche non probabilmente felicissime nel senso che appunto se si è scelto guagno giù al posto di confermare giovinazzi evidentemente c'è quel tipo di interesse lì giovinazzi è stato trattato a pech in faccia per usare una parola abbastanza forte dal suo team è stato volutamente scaricato nonostante appunto giovinazzi spesso fosse davanti a Raikkonen ma gli facevano di fatto le strategie contro solo per questo trattamento giovinazzi andrebbe promosso appunto come stagione fatta va detto che in realtà come rendimento non sarebbe da promuovere perché l'Alfa non è una macchina competitiva e di conseguenza anche i rendimenti dei piloti erano evidentemente deficitari però comunque abbiamo un decimo posto a Monaco e un nono posto a Jeddah nella sua penultima gara di questo scorso di Formula 1 prima di apportare a diciamo in Formula E Team Dragon però è una stagione che ripeto lascia molto il tempo che trova perché giovinazzi di fatto correva da separato in casa e capisco che non è mai bello correre in queste situazioni speriamo che nei prossimi anni ci sia spazio comunque per giovinazzi perché secondo me il pilota pugliese per quanto non sia di talento incredibilmente puro è un pilota che secondo me ci può stare in Formula 1 con una macchina magari più competitiva dell'Alfa Romeo parliamo come ultimo della Haas con Mick Schumacher e Nikita Mazepin che sono da bocciare senza se e senza ma la Haas ha scelto due piloti oltremodo paganti perché Mick Schumacher è lì un po' per il cognome del papà un po' perché comunque ha vinto il titolo di Formula 2 lo scorso anno ma non ha potuto esprimere quello che ha espresso in Formula 2 perché la Haas ricordiamo a corso con una Formula 1 diciamo non sviluppata e quindi di fatto lo hanno regato sempre a in fondo classifica zero punti per entrambi i piloti per una macchina che assolutamente è peggiore non dico come i livelli della Catram o della Marussia Manor di qualche anno fa ma siamo più o meno lì stesso discorso per Mazepin che fa pure peggio di Mick Schumacher nello schifo generale della Haas però ripeto è una scuderia che navega in acque pessime e vediamo se l'anno prossimo con il regolamento tecnico nuovo la scuderia americana si potrà risollevare perché insomma continuare a fare figure orrende in questa situazione è assolutamente deleterio per la scuderia e anche per i piloti per quanto possano essere talentuosi o meno in questo caso non parliamo di talento puro né per Schumacher né per Mazepin soprattutto per il pilota ruzzo in ogni caso staremo a vedere cosa sarà nel 2022 non giudicabile invece Robert Kubica che ha fatto due gare con la Alfa Romeo che ripeto è appena sopra la Haas come scarsità ma non ci siamo così tanto lontani Kubica ha corso due gare per aver sostituito Raikkonen per positività al Covid Belgio-Olanda le gare per lui anzi scusatemi Olanda-Italia con due top 15 che comunque è il massimo che un terzo pilota chiamato un po' all'ultimo può fare però Kubica non può fare assolutamente più di così c'è un ultimo voto però prima di dare la conclusione ufficiale al Racing Podcast ed è una bocciatura clamorosa alla direzione internazionale di corsa perché soprattutto nella figura di Michael Masi sono state combinate delle grosse cavolate in tutto l'arco del campionato abbiamo visto come in tutto il circus di questo mondiale Hamilton e Verstappen se ne sono date di santa ragione e i provvedimenti spesso sono stati molto soft per non dire inesistenti già questo dalla prima gara quando Hamilton e Verstappen si sono buttati fuori in quella famigerata curva 4 del Bahrain in direzione gara ha preso provvedimenti tardi e i piloti si sono autogestiti abbiamo la gara farsa di Spa che era una gara secondo me da cancellare in toto e di cui non bisognava assolutamente dare del punteggio e invece hanno fatto correre i piloti correre tra virgolette sotto safety car per 3-4 giri per poi concludere la gara e dare punti dimezzati infatti quando vediamo il virgola 5 in alcuni piloti in questa classifica è memore di quella pagliacciata di Spa Franconchamp andando a rovinare la gara più bella di tutto il Circus di Formula 1 era una gara da sospendere in quel caso non è stata sospesa è stato poi anche protagonista Michael Masi and company ovviamente di altri episodi controversi di per esempio la staccata al limite di Verstappen in Brasile che non fu penalizzata stessi episodi controversi a Jedda dove ne hanno combinate di cotte di crude ne abbiamo già parlato e abbiamo capito che in questo caso il direttore di corsa non è adeguato per il livello di piloti molto più alto in generale come appunto Hamilton e Verstappen anche ad Abu Dhabi la direzione gara ha fatto evidentemente degli errori e l'errore più grande è la generale della safety car all'ultimo giro quando ha sbagliato il regolamento palesemente sullo stoppiamento delle macchine doppiate ma ha fatto anche errori minori che sono stati diciamo analizzati molto meno perché evidentemente il finale ha preso in concitazione evidentemente tutti gli appassionati ma per esempio anche l'errore fatto al primo giro quando Hamilton taglia per i campi e guadagna un secondo otto in quel settore evidentemente è una cosa quanto meno da monitorare non è stato neanche monitorato Hamilton doveva restituire la posizione in modo di vedere invece se ne è andato guadagnando un secondo otto avrebbe vinto lo stesso in condizioni normale la gara del pilota inglese in quel caso ma almeno la direzione gara doveva sicuramente fare qualcosa di più una direzione gara che veramente ne ha combinate tante questi sono soltanto gli highlights delle schifezze che ha fatto Michael Masi insieme alla sua commissione di corsa e per questo la direzione di corsa va bocciata senza se senza ma e quindi mi auguro che l'anno prossimo si prendano provvedimenti a partire dalla situazione di Michael Masi come direttore di corsa ma anche in modo di vedere una riforma della commissione di corsa perché a me piacerebbe vedere dieci commissari uno per ogni scuderia di fatto che siano sempre quelli per ogni campionato per ogni gara del campionato meglio con il direttore di corsa che potrebbe far parte della commissione in sé e decidere la penalizzazione in base al regolamento che deve essere comunque specificato in maniera più chiara perché sono tanti gli episodi controversi del regolamento sono tanti i grigi di questo regolamento che andrà sicuramente riformato con un regolamento più consono e piloti di alto livello e speriamo anche con delle vetture più performanti che possano dare una lotta non solo a due ma anche a tre quattro piloti ci vuole veramente delle competenze più importanti rispetto a quelle viste quest'anno ci vuole un regolamento scritto bene che monitori e regolamenti quanti più casi possibile e una commissione fissa con il metodo di giudizio fisso per tutti e 23 i gran premi perché anche qui è incredibile come se uno va in Bahrain a un metodo di giudizio si fa un episodio ma se va in Azerbaijan ha lo stesso episodio valutato diversamente perché cambia la commissione quindi il metodo di giudizio può essere più o meno severo questa è una cosa che secondo me non ci può stare e mi auguro che appunto anche da questo punto di vista si prendano provvedimenti in ogni caso questo mondiale è andato in archivio ripeto è un mondiale che è stato bellissimo seguirlo fino alla fine finalmente un mondiale con soltanto due contendere vero ma che ci ha regalato emozioni che compensano il piattume degli ultimi due slash tre mondiali di Formula 1 e quindi celebriamo anche una volta la vittoria di Max Verstappen come campione del mondo 2021 a discapito di Lewis Hamilton si riparte il 20 di marzo del 2022 in Bahrain con un mondiale che sarà di 23 gran premi in otto mesi quindi un tour de force veramente incredibile e di conseguenza anche i Racing Podcast torneranno nella prossima primavera a una settimana circa dall'inizio dei vari campionati per parlare appunto della presentazione della nostra giornata di Formula 1 il saluto da parte di Metro Torchard grazie per aver seguito il Racing Podcast appuntamento di conseguenza al 2022 e ci vediamo comunque al prossimo video grazie per aver guardato